La nostra dottrina principale comprende la consapevolezza che noi siamo figli di un Dio vivente. Questo è il motivo per cui uno dei Suoi nomi più sacri è Padre, Padre Celeste. Questa dottrina è stata insegnata con chiarezza dai profeti di tutte le epoche. Quando venne tentato da Satana, Mosè lo respinse dicendo, «Chi sei tu? Poiché ecco, io sono un figlio di Dio». Rivolgendosi a Israele, il salmista proclamò, «Voi siete Dì, siete tutti figlioli dell'Altissimo». Sul colle dell'Aeropago, Paolo insegnò agli Ateniesi che essi erano progenie di Dio. Joseph Smith e Sidney Rigdon ebbero una visione in cui videro il Padre e il Figlio, e una voce dal cielo dichiarò che gli abitanti dei mondi sono generati figli e figlie per Dio. Nel 1995, quindici apostoli e profeti hanno affermato, «Tutti gli esseri umani sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un benamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti». Presidente Thomas S. Monson ha attestato, «Noi siamo figli e figlie di un Dio vivente. Non possiamo credere sinceramente in questo senza provare una profonda sensazione di forza e potere». Questa dottrina è così basilare, così frequentemente ripetuta e così intuitivamente semplice che può sembrare una cosa ordinaria, quando in realtà è una delle cognizioni più straordinarie che possiamo ottenere. La corretta comprensione del nostro retaggio divino è essenziale per l'esaltazione. Essa è fondamentale per comprendere il glorioso piano di salvezza e per nutrire la fede nel primo genito del Padre, Gesù il Cristo, nella Sua espiazione misericordiosa. Inoltre, è fonte per noi di motivazione continua a stringere e a osservare le nostre indispensabili alleanze eterne. Salvo poche eccezioni, tutti i partecipanti a questa riunione potrebbero intonare sui due piedi, senza testo scritto né musica, «Sono un figlio di Dio». Questo inno, tanto amato, è tra quelli cantati più spesso in questa Chiesa. Ma la domanda cruciale è, sappiamo davvero di esserlo. Lo sappiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra anima. La nostra discendenza divina rappresenta per noi l'identità primaria e più profonda. Qui sulla Terra, tutti noi ci identifichiamo mediante tanti modi diversi, tra cui il luogo di nascita, la nazionalità e la lingua. Alcuni si identificano persino mediante la loro occupazione o i loro interessi. Queste identità terrene non sono sbagliate, a meno che non si sostituiscano o interferiscano con la nostra identità eterna, quella di figli e figlie di Dio. Quando la nostra figlia più piccola aveva sei anni e frequentava la prima elementare, la sua insegnante assegnò agli alunni un esercizio di scrittura. Era ottobre, il mese di Halloween, una festività celebrata in alcune parti del mondo. Sebbene non sia la mia festività preferita, suppongo che Halloween possa avere alcuni aspetti innocenti e positivi. L'insegnante distribuì un foglio ai giovani studenti. In cima vi era disegnata a grandi linee la figura di una strega immaginaria. Vi avevo detto che questa non era la mia festività preferita. La strega sorvegliava un calderone bollente. Per stimolare la loro immaginazione e per esaminare le loro basilari capacità nello scrivere, agli alunni fu posta questa domanda. Hai appena bevuto un bicchiere della pozione della strega. Che cosa ti succede? Sappiate che questa storia non viene raccontata per servire da consiglio agli insegnanti. Hai appena bevuto un bicchiere della pozione della strega. Che cosa ti succede? Con la sua migliore grafia da principiante, la nostra piccolina scrisse Morirò e andrò in cielo. Listerò bene. Mi piacerà. Mi piacerà perché è il posto più bello di tutti, perché siamo con il nostro Padre Celeste. Questa risposta probabilmente stupì la sua insegnante. Tuttavia, quando nostra figlia portò a casa il compito svolto, notammo che l'era stata data una stella, il voto più alto. Nella vita reale affrontiamo difficoltà concrete, non immaginarie. c'è il dolore, fisico, emotivo e spirituale. C'è la sofferenza, quando le circostanze sono molto diverse da come avevamo previsto. C'è l'ingiustizia, quando pensiamo di non meritare la nostra situazione. c'è il disappunto, quando qualcuno di cui ci fidavamo ci delude. Ci sono i problemi di salute ed economici che possono disorientarci. Possono esserci periodi di dubbio in cui una questione che riguarda la dottrina o la storia va al di là della nostra comprensione attuale. Quando le difficoltà si presentano nella nostra vita, qual è la nostra reazione immediata? È confusione, dubbio o l'antonamento spirituale? È un duro colpo per la nostra fede? Accusiamo Dio o gli altri delle nostre circostanze? Oppure la nostra prima reazione è quella di ricordare chi siamo, che siamo figli di un Dio amorevole. E a questa si accompagna una fiducia assoluta nel fatto che Egli permetta alcune sofferenze terrene, perché sa che ci benediranno come il fuoco del raffinatore, facendoci diventare come Lui e ottenere la nostra eredità eterna? Di recente ho partecipato a una riunione con l'anziano Jeffrey R. Holland. Mentre insegnava il principio secondo cui la vita terrena può essere tormentata, ma le nostre prove hanno uno scopo eterno, anche se sul momento non le comprendiamo, l'anziano Holland ha detto potete avere ciò che volete o potete avere qualcosa di meglio. Cinque mesi fa io e mia moglie Diane siamo andati in Africa con l'anziano e la sorella Bednar. la sesta e l'ultima nazione che abbiamo visitato è stata la Liberia. La Liberia è un paese eccezionale con un popolo nobile e una storia ricca ma dove le cose non sono facili. Decenni di stabilità politica e di guerre civili hanno aggravato la piaga della povertà e, come se non bastasse, la temuta malattia dell'Ebola ha ucciso quasi 5.000 persone durante l'ultimo focolaio epidemico. da quando dopo l'epidemia di Ebola l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non sussisteva più alcun pericolo il nostro è stato il primo gruppo di dirigenti della Chiesa proveniente da fuori dal paese a visitare la capitale Morrovia La mattina di una domenica particolarmente calda e umida ci siamo regati al centro della città in una struttura presa in affitto per le nostre riunioni Ogni sede disponibile era stata sistemata per un totale di 3.500 posti Il conteggio finale dei partecipanti è stato di 4.100 persone Quasi tutti coloro che vi hanno preso parte sono arrivati a piedi con qualche scomodo mezzo di trasporto pubblico Per i Santi non è stato facile riunirsi ma sono venuti Molti sono arrivati diverse ore prima dell'orario prefissato per la riunione I Santi erano preparati per essere istruiti Quando un oratore citava un passo scritturale i membri lo ripetevano a voce alta Indipendentemente da quando fosse corto o lungo il passo l'intera congregazione rispondeva all'unisono Ora noi non suggeriamo necessariamente di fare altrettanto ma il fatto che essi riuscissero a farlo era sicuramente notevole e poi il coro davvero potente con un direttore entusiasta e un giovane di 14 anni alla tastiera i membri cantavano con vigore ed energie Poi ha parlato l'anziano Benner questo ovviamente era un momento tanto atteso della riunione ascoltare un apostolo insegnare e rendere testimonianza chiaramente diretto dallo spirito nel corso del suo intervento la ziano Benner si è fermato e ha detto conoscete l'inno un fermo sostegno è stato come se 4100 voci avessero risposto con un boato sì poi ha chiesto conoscete la settima strofa ancora una volta l'intera congregazione ha risposto sì la versione del vigoroso inno un fermo sostegno interpretata dal cuore del tabernacolo mormone negli ultimi dieci anni includo la settima strofa che prima non veniva cantata molto spesso l'anziano Benner ha detto cantiamo le strofe 1 2 3 e 7 senza esitazione il direttore del coro è balzato in piedi e mentre il giovane detentore del sacerdozio di Aronne ha subito iniziato a suonare energeticamente gli accordi introduttivi con un livello di convenzione che non avevo mai provato prima durante un inno della congregazione abbiamo cantato le strofe 1 2 e 3 poi il volume e la potenza spirituale sono aumentati quando le 4100 voci hanno cantato la settima strofa proclamando quell'alma che ha posto in Gesù il suo sperar nel mio amor non potrò abbandonar il mondo e l'inferno allora scuoterò l'eterno rifugio l'eterno l'eterno rifugio l'eterno rifugio che in me le darò l'eterno rifugio che in me le darò quel giorno durante uno degli eventi spirituali più straordinari della mia vita mi è stata insegnata una lezione profonda viviamo in un mondo che può portarci a dimenticare chi siamo realmente più sono le distrazioni che ci circondano e più è facile trattare con leggerezza ignorare e dimenticare il nostro legame con Dio i santi della Liberia hanno poco a livello materiale eppure sembra che spiritualmente abbiano tutto quel giorno a Morrovia abbiamo visto un gruppo di figli e figli di Dio che sapevano di esserlo nel mondo di oggi indipendentemente da dove viviamo o da quali siano le nostre circostanze è essenziale che la nostra identità preeminente sia quella di figli di Dio avere questa consapevolezza permetterà la nostra fede di prosperare ci darà la motivazione per continuare a pentirci e la forza di essere costanti e fermi per tutto il nostro viaggio terreno nel nome di Gesù Cristo Amen grazie a tutti Grazie a tutti